Bene amici, oggi parliamo di un discorso molto molto delicato, ossia come distinguere il tipo di legno che abbiamo a bordo e come evitare truffe o cadere in un sbagliato acquisto. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e ad attivare la campanella degli avvisi per non perdervi nessun video futuro. Iniziamo con una piccola premessa, perché il Tec è il legno preferito, diciamo, il più adatto per l'installazione a bordo? Se noi andiamo a controllare la scala di durezza dei legni scopriamo che il Tec è un legno in realtà morbido, perché tende a rompersi molto più facilmente in caso di impatto rispetto a legni di altro tipo. Il motivo per cui viene installato a bordo è per la presenza degli oli all'interno della sua fibra. Infatti l'albero del Tec ha naturalmente al suo interno, all'interno della fibra, degli oli naturali che lo preservano e quindi tendono a difenderlo dalle intemperie e consentendo al legno di adattarsi anche in caso di sbalzi termici o cambi di umidità in particolare. Quindi grazie a questa caratteristica naturale il legno riesce a difendersi maggiormente dalle sollecitazioni che avvengono quotidianamente sulla nostra barca, quindi cambi di temperatura, cambi di umidità, la salsedine, l'utilizzo dei prodotti, detergenti troppo aggressivi, che in caso di manutenzione sbagliata ovviamente tendono a rovinarlo a volte anche in maniera irreversibile. Ma di questo ne parleremo magari in un prossimo video, fatemi sapere se vogliamo approfondire questo discorso e quindi verrà fatto un video dedicato alla manutenzione del legno. Tornando al discorso, quindi il Tec viene scelto a bordo appunto per la presenza degli oli. L'altra alternativa principale utilizzata nella nautica è l'Iroco. L'Iroco è un legno che ha una qualità molto più bassa rispetto al Tec perché appunto non ha gli oli che lo difendono dalle intemperie e in più è un legno molto molto più rigido. Questo può essere un vantaggio o un svantaggio a seconda di come la vediamo. Può essere un vantaggio perché la sua eccessiva rigidità tende comunque a difenderlo dagli impatti quindi può essere utile per barche per trasporto passeggeri ad esempio in cui c'è sempre un movimento di persone che utilizzano scarpe e quindi comunque c'è molto impatto sulla superficie. Il contro è che ovviamente essendo un legno più rigido e anche molto più secco è più soggetto a creparsi se non ben trattato. Quindi non avendo gli oli che tendono diciamo ad amalgamare la fibra e quindi ad adattarla ai cambi di temperatura, agli sbalzi, alle sollecitazioni atmosferiche tende a creparsi. E questo può essere un primo esempio di differenza di come poter distinguere l'iroco dal tec perché in caso di crepa noi abbiamo la fibra del tec in che si crepa lungo la venatura quindi noi riusciamo a seguire vedremo una crepa che segue tutto il tragitto della venatura. Nel caso dell'iroco invece la crepa tende ad andare a raggio quindi andare in qualsiasi direzione e questa può essere una prima distinzione. L'altra distinzione può essere quali prettamente estetica perché noi abbiamo il tec che è il classico colorito biondo, il giallo chiaro a cui siamo abituati a vederlo quando appena installato quindi avremo questo colore uniforme che vediamo di solito ad esempio nelle barche in fiera. Con l'iroco invece abbiamo due opzioni. Abbiamo il primo tipo che è quello di più bassa qualità ancora, è un tipo di legno che è un colore molto più scuro rispetto al tec ed ha un colore quasi rossiccio quindi noi lo possiamo vedere chiaramente come distinzione di colore. L'altro tipo di roco che è un po' più pregiato appunto rispetto a questo primo tipo è l'iroco a pasta gialla. L'iroco a pasta gialla ha una colorazione da asciutto molto simile a quella del tec quindi come poter distinguere in quest'ultimo caso un tec da un iroco a pasta gialla? Possiamo vederlo tranquillamente con la venatura perché abbiamo la venatura del tec che segue una linea tradizionale quindi classica come vedete in foto invece l'iroco ha un tipo di venatura che può essere delimitata io la identifico a goccia diciamo ci sono questi tratti un po' più spessi che variano anche da una doga all'altra quindi di fatto non c'è una linearità del prodotto. Altra cosa che possiamo fare è anche bagnarlo quindi vedere la colorazione che assume da bagnato rispetto all'asciutto perché da bagnato noi riusciamo a vedere la vera origine del legno questo capita anche nel caso in cui ci abbiamo un pozzetto in tec se noi vediamo da asciutto è un colore omogeneo mentre se lo bagniamo come vedete in foto ci sono delle doghe che hanno un colore rispetto ad un'altra. Questo non è dovuto al fatto che chi ve l'ha installato ha sbagliato ad applicarlo ma semplicemente perché ci sono tecniche di lavorazione di coltivazione del legno che ad oggi non possono essere più classificate diciamo perché a causa dello sfruttamento a causa dell'aumento del commercio del legno inevitabilmente ci sono sempre più materiali differenti quindi noi magari un'intera partita di legno non viene più dalla stessa piantagione ma viene uno esempio da una determinata località una dall'altra parte del mondo che vengono assimilate quindi noi vediamo direttamente il taglio della doga quindi da asciutto ci sembra tutto uguale ma da bagnato vediamo delle colorazioni differenti ma questo non è un difetto anzi tende a sottolineare diciamo la naturalezza del prodotto. Altro aspetto che possiamo verificare per distinguere l'iroco dal tec in caso di legno non trattato è diciamo la prova tattile perché dato che il tec ha questi oli naturali se noi andiamo a strisciare il polpassarello proprio a fare pressione sul legno sentiremo la mano come se fosse unta perché inevitabilmente la fibra tende a rilasciare questi oli mentre l'iroco sentiremo una mano asciutta perché appunto la fibra non contiene quest'olio questo vi ripeto può essere applicabile questo metodo solo in caso di prodotti non trattati quindi qualora l'installazione sia appena conclusa andiamo a bordo e possiamo fare questa prova mentre se la barca magari si trova al salone nautico ed è stata trattata non possiamo più farlo perché magari l'olio gli è stato dato artificialmente e di fatto quindi viene meno questa prerogativa di differenza tra una fibra e l'altra. Prima di passare ad un altro discorso a cui tengo particolarmente e sulla quale ci sono molti dibattiti perché c'è spesso confusione tra acquirente e operatore ossia la differenza tra piallaccio e massello io vorrei ringraziare il cantiere del legno per la consulenza e grazie a loro che state vedendo questo video e quindi vi invito a lasciare un like e a seguire anche la loro pagina. primo discorso la differenza tra massello e piallaccio il massello si intende la doga per intero quindi fatta interamente di quel tipo di legno quindi nel caso del tec abbiamo uno spessore che va dagli 8 e 14 mm generalmente interamente di quel tipo di legno quindi abbiamo 8 mm pieni di questo legno del tec che possiamo quindi tranquillamente carteggiare per molto tempo senza perdere la qualità del materiale il piallaccio invece di fatto è un composito possiamo definirlo composito perché alla base c'è un legno di una qualità inferiore che di solito può essere compensato a moltistrato o come ad esempio di uno spessore maggiore sulla superficie del quale vengono installati dei fogli vengono incollati dei fogli che hanno uno spessore dai 0,6 ai 2,7 millimetri di spessore quindi diciamo parliamo di uno spessore molto molto inferiore rispetto al massello che quindi ci danno l'aspetto estetico una volta montato del legno ben sistemato e installato a bordo ma di fatto dopo pochi anni dopo poche carteggiature perché di solito i cantieri tendono a carteggiare per questioni di praticità d'uso o magari perché appunto ci sono dei segni indelebili che devono essere carteggiati per forza noi quindi ci ritroveremo dopo due o tre sessioni di carteggiatura con il multistrato con lo come che risulta fuori che sbuca fuori e questo si traduce in un effetto estetico bruttissimo oltre a diciamo essere anche pericoloso per noi perché queste schegge che risultano fuori possono andare sotto i piedi e risultare quindi anche molto molto dolorose quindi come poter distinguere una volta installato a bordo il piallaccio dal massello dobbiamo andare un attimo a fare un passo indietro e tornare alla lavorazione quindi del legno dovete sapere che i piallacci vengono installati in tagli preformati di una lunghezza che vanno generalmente dai intorno ai 3 metri e 20 di lunghezza per 20 25 3 centimetri di larghezza quindi noi a livello della coperta dovremmo avere un occhio molto molto critico e attento per visualizzare una linea di confine nascosta tra le venature e come possiamo vederla possiamo avere un occhio molto molto attento per vedere appunto questa linea di giunzione tra i due fogli di piallaccio uno accanto all'altro quindi vedremo non più una venatura che segue ovviamente un aspetto un po più variabile ma questa linea dritto che è dovuto al taglio questo può essere utilizzato in caso di barca nuova in cui legno è stato appena installato a bordo in caso in cui la barca dovesse avere qualche anno quindi la barca è usata questa differenza viene ancor più evidenziata perché inevitabilmente nella giunzione tra un legno e l'altro si tenderà a infiltrare dell'acqua quindi vedremo che c'è questa piccola zona in cui si inizia a sollevare maggiormente che è appunto la linea di giunzione del piallaccio invece nel caso in cui dovessimo avere una superficie che supera i tre metri e mezzo di lunghezza proprio perché i piallacci hanno una lunghezza preformata intorno ai tre metri dieci tre metri venti potremmo vedere ancora di più un'aggiunzione in senso trasversale perché appunto finisce il foglio e quindi hanno dovuto utilizzarne un altro quindi cari amici queste sono le informazioni principali per distinguere il tipo di legno che abbiamo a bordo e soprattutto fare la differenza tra un legno massello e un legno impiallacciato questa differenza è fondamentale ai fini della durata del rivestimento a bordo quindi il mio consiglio è in primis quando voi chiedete un preventivo di lavorazione chiedere la prima cosa che tipo di legno vi montano a bordo seconda cosa se vi montano un massello e in quel caso di che spessore oppure se vi montano un piallaccio e anche in quel caso del piallaccio chiedere che spessore ha il foglio superficiale perché ovviamente una cosa sono 0,6 mm che io non consiglierei mai di installare 0,6 mm quindi questa sfoglia di legno che dura due anni secondo l'utilizzo classico a seconda appunto dell'utilizzo che ne fate la manutenzione perché inevitabilmente comunque è anche più soggetto a spaccarsi uno spessore così piccolo rispetto ovviamente ai 2,7 mm quindi chiedete sempre e informatevi su che cosa vi stanno montando a bordo non basatevi soltanto sul prezzo quindi cari amici per ora abbiamo concluso io vi invito sempre a prestare questa attenzione vi invito nuovamente a lasciare un like alla mia pagina facebook e a seguire anche il quantiere del legno e li ringrazio ancora per la consulenza che mi hanno fatto per distinguere questi tipi di legno che abbiamo a bordo e quindi come evitare eventuali truffe o anche come valutare l'acquisto di una barca usata fatemi sapere cosa ne pensate datemi anche le vostre opinioni e per tutti i video ci vediamo sempre sul mio canale